Questa missione è stata voluta fortemente da Regione Marche in qualità di ambasciatrice del patto di sindaci e quindi abbiamo ritenuto importante e utile per la nostra realtà portare a conoscenza del Comitato Europeo delle Regioni questa che è un'esperienza davvero molto qualificata della Regione Marche e poi anche di facilitare un po' il confronto istituzionale per arrivare sempre più in fretta a quella che è la transizione energetica. Una missione ambiziosa che prevederà anche un workshop formativo dove anticiperemo ai 32 sindaci presenti quelli che saranno le novità della prossima programmazione. Il ruolo di Regione Marche è il ruolo di regia per monitorare l'attività svolta ma soprattutto per intercettare i fabbisogni e quindi cercare di orientare al meglio le risorse pubbliche.